ciao benvenuti in questo nuovo episodio di silviembre siamo al numero 3 allora piccolo recap nel primo episodio vi avevo spiegato che la base per me per iniziare anche solo a pensare di fare cose nuove di impegnarmi a bla bla sono tre step 1 fermarsi e settarsi prima di ripartire a bomba cosa che abbiamo fatto nel primo video facendo anche un piccolo esercizio della scala del valore secondo step definire degli obiettivi slash desideri li abbiamo chiamati per il nuovo anno cosa che abbiamo fatto nel video precedente nell'episodio 2 facendo un esercizio rispondendo a una domanda e siamo giunti al terzo step che è acquisire degli nuovi strumenti per essere più efficaci qui in realtà non ci sarà un video dedicato ma sarà una serie di video dedicati perché ovviamente sono tanti degli strumenti quindi in questo video che sarà abbastanza breve vi voglio un po raccontare alcune cose che ho implementato nella mia vita che mi hanno veramente cambiato la vita sembra tragica e portante imponente in realtà sono cose molto semplici che mi sento di condividere perché per me hanno fatto veramente la differenza questo è un pochino un video un po più chiacchiericcio quindi la prima cosa possiamo classificarla come digital wellness parlando in chiave bloomwell no telefono appena sveglia fino a dopo colazione c'era un tempo in cui io mi svegliavo al mattino la prima cosa che facevo era guardare il telefono incominciare a scrollare instagram e neanche troppo entrare nel loop dello scroll cioè non ho mai personalmente passato troppe ore a scrollare senza riflettere senza pensare però una cosa che facevo era proprio svegliarmi e prendere il mio cervello e buttarlo dentro il telefono quando ho smesso di farlo ho notato veramente un cambio nel mio approccio nella mia creatività al mattino il fatto di lasciare il cervello libero una volta svegliato libero di vagare senza incanalarlo nei contenuti programmati di un telefono programmati non è detto a caso ma è detto con coscienza perché quello che ci mostra subito instagram è frutto di un algoritmo che è programmato su di noi cioè se noi abbiamo un interesse il telefono l'app continuerà a mostrarci sempre quella cosa per cui sa che abbiamo un interesse perché ci vuole tenere lì ok l'obiettivo di queste piattaforme è tenerci più attaccato possibile al telefono quindi svegliarmi e portare il mio cervello che sta esplodendo di creatività e dirgli no ma scusa è tu ora torna lì dove sei nella tua comfort zone in quello che sai fare in quello che sei abituato a vedere in quello che sei abituato a pensare ti blocca ti blocca già i pensieri cioè qualunque sprazzo di creatività dice no tu fermo lì devi pensare solo a quello quello che è già un tuo interesse bloccando così qualunque nuova possibilità di acquisire nuovi interessi nuovi stimoli con no telefono in realtà intendo no devices di ogni genere quindi anche no televisione no computer netflix serie tv no radio niente io ho imparato fare colazione in silenzio perdendomi nella mia testa in realtà i pensieri poi vengono vanno però veramente lasciar fluire e è una forma di meditazione quindi la mattina quella è diventata la mia forma di meditazione e devo dire che ho visto veramente un grandissimo cambiamento nel mio umore mi sento serena felice dentro il mio mondo ok e soprattutto nella mia creatività quindi è una cosa che veramente consiglio di provare ovviamente non ogni cioè capita la mattina in cui accendi la tv perché ti vuoi informare sul mondo telegiornali eccetera certo capita la mattina in cui vuoi guardare una serie tv certo però un consiglio è quello di provare a implementare questa nuova cosa almeno una volta provatelo poi vedrete e proverete i benefici o anche no un'altra nuova abitudine che mi ha cambiato la vita è quella di leggere al mattino due motivi uno nella mia quotidianità non riesco mai a trovare del tempo per fermarmi a leggere se non d'estate in vacanza quindi io per anni mi sono ritrovata a leggere solo d'estate e io amo leggere tantissimo mi piace entrare in quei mondi dei libri è qualcosa per me di veramente magico e ridurlo al periodo solo estivo era veramente triste passatemi il termine quindi ho un po' riflettuto su come poterlo integrare durante la mia quotidianità anche invernale diciamo e all'inizio avevo iniziato a farlo la sera solo che io arrivo sul letto leggo forse una pagina e mi addormento quindi sa da fare la sera è impossibile per me stendermi a letto e non addormentarmi subito e quindi ho incominciato a farlo al mattino dopo aver fatto colazione mi prendo del tempo magari mentre sorseggio il mio caffè per leggere qualche pagina questo non solo mi permette di leggere e sono super felice ma anche ovviamente scegliendo dei libri di crescita personale un po' ispirazionali un po' che comunque sono dei libri che fanno riflettere aiuta anche questo la mia creatività ad aprirmi le vedute ad aprire il cervello quindi super consigliata questa cosa e per me è veramente bellissima un'altra cosa che ho implementato sto cercando di implementare nella mia vita è il silenzio non mi è mai piaciuto in realtà avere non lo so la televisione sempre accesa le radio sempre accesa sempre qualcosa che distragga il cervello uno perché mi dà mal di testa e due perché lo trovo uno stimolo continuo del nostro cervello che però non crea soltanto confusione quindi in casa nostra c'è sempre silenzio sono felice perché anche Jimmy più o meno lui a volte si mette le cuffie però la vive bene insieme a me e penso che anche questa sia qualcosa che aiuta a far lavorare un pochino di più il cervello da solo perché avere questi continui stimoli dall'esterno ci distrae perché una cosa che ho imparato dal percorso di digital wellness è che noi per quanto diciamo di essere multitasking eccetera non lo siamo il nostro cervello non è multitasking il nostro cervello fa una cosa alla volta e quindi continuare a dargli degli input esterni porta il nostro cervello a fare un continuo balzo destra sinistra destra sinistra senza però veramente quagliare quindi più si riesce a incanalarsi sul fare una cosa e una portarla a termine e poi passare a quella dopo meglio è pensateci quante volte ci mettiamo magari al computer abbiamo la mail la notifica whatsapp e poi parte un video e saltiamo da una cosa all'altra ti fermi e dici ma ma cos'è che stavo facendo perché il nostro cervello non riesce a fare tutto insieme deve fare una cosa alla volta e quindi anche noi dobbiamo mettere nella condizione di poterlo fare evitando sempre di più questi continui bombardamenti dall'esterno lo so gesticolo tanto ma mi piace tanto gesticolare tanto ok un'altra cosa che ho implementato molto difficile ma ne ho già anche parlato e accennato nel video scorso è scrivere il journaling l'ho sempre visto fare in questi video delle americane eccetera ho sempre pensato ma che cosa scrivono grazie salva la vita cioè io purtroppo è una cosa che non riesco a fare troppo spesso vorrei farlo di più ogni giorno possibilmente ma è veramente impossibile perché fai colazione in silenzio legge un pochino passa tempo in silenzio cioè la mattina non c'è troppo tempo prima di iniziare il lavoro quindi lo faccio quando ho tempo solitamente nel weekend ma ho un diario che in realtà è proprio qua davanti è questo quadernino in cui io apro e scrivo tutto quello che mi passa per la testa all'inizio è come quando vado lo psicologo no? arrivi e dici ma io sono niente da dirgli inizio a scrivere ti fa male il polso perché non riesci più a smettere e è veramente terapia e come accennavo nel video scorso la cosa più difficile è scrivere senza autogiudicarsi è un grande lavoro che si deve fare su se stessi e per farlo ci vuole pratica cominciare a scrivere magari il primo giorno si scrive niente due righe perché ti senti un po' scema il secondo giorno magari uguale a continuare a mettersi lì vedrete che le parole arrivano e soprattutto quello che all'inizio un po' si filtra perché incominci a scrivere e magari anche pensi se me lo legge qualcuno allora questa cosa non la posso scrivere se avete questo timore fateli tutto per metterlo al sicuro nascondetelo mettetevi un lucchetto dovete sentirvi sicure qui dentro e deve essere il vostro mondo dove nessuno può entrare nessuno ha il permesso di entrare e dove potete veramente scrivere tutto ciò che vi passa per la testa senza pensare che sia giusto sbagliato sbagliato anormale non c'è siete voi non sarà mai sbagliato sarà magari non conforme alla società ma è il bello della vita essere non conformi alla società quindi veramente fate di tutto per far sì che questo sia diventi un porto sicuro e ricordatevi sempre che le pagine non vi giudicano se siete l'unica persona a leggerlo e a scriverlo l'unica persona che vi sta giudicando siete voi stessi quindi la lascio lì a leggere ma rifletteteci e basta quindi queste sono alcune delle cose che ho implementato in questi ultimi anni che mi hanno veramente cambiato la vita la maggior parte sono da fare al mattino perché poi ragazzi tutti abbiamo questa routine chi più chi meno ma che inizi a lavorare a un determinato orario finisci di lavorare all'altro quindi tutto il momento tutte le ore passate nel mezzo è difficile dedicarle alla cura di noi stessi quindi è giusto ed è consiglio che vi do il prima e il dopo dedicato alla vostra anima e al vostro corpo allenamento cura personale beauty skin care qualunque cosa ma fate delle cose per voi stessi fate delle cose per stimolare il vostro cervello e non chiuderlo in dei canali premeditati prefissati spero che questo video vi sia piaciuto ne siamo arrivati alla conclusione se così è stato lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento potete anche commentare il numero di volte e la quantità di gesti e gesticolazioni che faccio in questi video ma questa sono io non so che cosa farci mi piace soprattutto perché ho le unghie fatte quindi è una cosa che aumenta la situazione vabbè ok noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao